Il bene che l'uomo compie non è il risultato di calcoli o strategie, nemmeno è il prodotto dell'assetto genetico o dei condizionamenti sociali, ma è il frutto di un cuore ben disposto, della libera scelta che tende al vero bene. Lo ha detto Papa Francesco ai partecipanti dell'Assemblea Plenaria della Pontificia Accademia della Vita, che si riunisce in questi giorni per lo studio dell'etica nella vita. Le sacre scritture si riferiscono spesso al cuore come l'organo degli affetti, dello spirito e della volontà, ha spiegato Papa Bergoglio. Dal cuore nascono le decisioni buone, ma anche quelle cattive, che nascono quando i suggerimenti dello spirito vengono respinti, specie nel nostro tempo in cui certi orientamenti culturali non riconoscono più l'impronta della sapienza divina nella natura umana, che così viene ridotta a sola materia. La virtù, invece, ha proseguito il Pontefice, è l'espressione più autentica del bene che l'uomo è capace di realizzare. Non è semplice abitudine, ma l'attitudine costante di scegliere il bene. In un mondo dove non mancano le tecnologie e le conoscenze per dare sostegno alla vita, spesso manca l'umanità. Per questo il Papa ha invitato le università a considerare il tratto umano nei loro programmi di studio, affinché gli studenti e gli operatori sanitari possano disporsi con il cuore e con la mente alla cura della vita umana, con la dignità che in ogni circostanza le appartiene. La società contemporanea conserva ancora le premesse per affermare che l'uomo è sempre un valore da proteggere, ha concluso Papa Francesco, auspicando che la virtù sovrasti incertezze morali che non consentano alla vita di essere difesa in modo efficace. Io vorrei ripetere qui una cosa che ho detto parecchie volte. Dobbiamo stare attenti alle nuove colonizzazioni ideologiche che subentrano nel pensiero umano, anche cristiano, sotto forma di virtù, di modernità, di atteggiamenti nuovi, ma sono colonizzazioni, cioè tolgono la libertà, ideologiche, che hanno paura della realtà tale come Dio l'ha creata.